allora facciamo questa diretta da casa piana dove sono esposte le sei Yamaha da Gran Premio in fase di partenza verso l'Olanda abbiamo il TD2 raffreddato ad aria del 1969 abbiamo il suo gemello il TR2 che è la versione 350 sempre del 1969 con la caratteristica della forcella Drixton davanti freni da tamburo 8 ganache poi saliamo verso il TZD che è ex del pilota Stefano anzi Giuseppe Consalvi chiedo scusa sempre 250 raffreddato d'acqua del 77 adesso poi dimentico gli anni precisi perché non voglio davanti l'alto TZ sempre raffreddato d'acqua 250 poi saliamo il TZ H o G non mi ricordo più 250 siamo già nel 1983 84 è una moto che ha partecipato al Turistrophy ancora al serbatoio con il tappo a riempimento rapido di fianco Italo Piana campione italiano di motociclismo che sta curando gli ultimi particolari prima della spedizione e poi l'ultima l'unica moto che invece era già stata restaurata che il TZ H G non mi ricordo più 83 84 che invece questa moto è stata integralmente già restaurata e quindi forse il pezzo migliore della nostra collezione numero di telaio numero di motore uguali tra l'altro ha la caratteristica che avendo un serbatoio che non era più efficiente perdono il radiatore che non era più efficiente lo abbiamo dotato di un radiatore nuovo costruito artigianalmente da un'industria inglese quindi un radiatore nuovo che è costato la bellezza di 1000 euro il motore ai cilindri separati con la missione lamellare e questo fosse il pezzo più più bello della nostra collezione perché come dico è stata interamente restaurata facciamo un altro colpo d'occhio della della scuderia e ci sono tutte le motociclette pronte per l'espedizione passando dall'altro lato in fase di preparazione per la spedizione c'è l'Itom 50 e il Motom campione italiano del 1962 54 tempi con ancora numero di gara numero 31 scuderia italpiana e il motore preparato e con allegato ci sarà il cambio per selettore velox e poi ci sarà anche una scheda tecnica con il contenuto di questo motore qua che ha le valvole maggiorate le astine in alluminio e tante altre caratteristiche che gli hanno permesso di vincere il titolo nel 1962 62